Allora, sotto un cielo innevato, perlomeno al nord, oggi siamo contenti, è venerdì 2 marzo, di ospitare artisti emergenti come facciamo ogni venerdì a Good Vibes e sono venuti a trovarci Arianna Montefiori e Luca Levi. Buongiorno ragazzi! Buongiorno, buon Natale! Christmas party! Allora, io sono molto contento perché loro non solo sono fidanzati anche realmente nella vita, ma sono anche due amici proprio intimi, familiari, con i quali poi si riesce praticamente ogni weekend e quindi oggi sarà una puntata davvero anche divertente perché personalmente li conosco anche nel privato e quindi faremo un sacco di chiacchiere. Allora, Arianna Montefiori, se seguite il mondo delle fiction, lei ha partecipato alla ultima stagione di Che Dio Ci Aiuti con Elena Sofierici e Valeria Fabrizi e Cristiano Caccamo che era poi il tuo fidanzato, giusto? Tu interpretavi il ruolo di Valentina che era questa escort. Esatto, una ragazza di 22 anni, un escort, che entra nel convento insieme a Sor Angela, comincia a fare volontariato nell'ospedale e trattiene questa relazione con il dottore Gabriele, interpretato da Cristiano Caccamo. Esatto, mentre Luca Levi è anche un attore di teatro e si muove nei vari teatri anche nel nord e in tutta Italia. Qui era finito Hospitality Suite, un play americano. L'ultimo teatro dove l'abbiamo portato è il Lafel Spazio, vicino a Centrale, zona centrale di Milano. Esatto, allora noi sapete ormai ragazzi che il format di Good Vibes appunto è il venerdì da spazio artisti emergenti a 360 gradi, intanto perché ci piace poi conoscere il percorso di questi giovani e poi magari avvicinare anche a vostra volta altri ragazzi, altri giovani in questo mondo attraverso un percorso, una strada giusta e quindi tra poco dalle 14 in diretta cercheremo di capire quale potrebbe essere questa strada con le vostre esperienze e tutti i vostri dietro le quinte. Vi aspettiamo allora, Good Vibes, tra poco. Ciao!